Musica Salve amici appassionati di Football Manager Qui con voi come sempre c'è Mike94 Ed eccoci ritornati finalmente con la nostra mitica carriera con lo Spezia Come potete benvenire siamo al 9 gennaio Quindi dopo numericamente la partita con il Milan Ma questo video verrà postato prima della partita del Milan Quindi ancora un po' di suspense Perché volevo parlare un po' di calcio mercato In quanto il video che avevo fatto prima della partita con il Milan a punto di mercato Non mi fa impazzire Quindi lo voglio rifare Cercando anche di impostarlo un poco meglio Ecco qui i giocatori che Colui del quale contratto Il cui contratto sta scadendo L'unico a cui ho voluto fortemente rinnovare è Bovo Anche se qui non lo dice Però io l'ho rinnovato fino al 2016 Adan non ha voluto rinnovare E Booma ovviamente non gli verrà rinnovato Ciurra non è sta grande cosa Vabbè Bertagna pure gli è stato rinnovato E infine Nuno Gomez Vedremo un po' In campionato che cosa fare Gli mancano 8 partite in campionato Per avere un prolungamento del contratto Vedremo se gliele facciamo fare o meno Perché per il momento non ha convinto Al meglio Sicuramente potremmo trovare Qualcuno di più giovane e forte Vediamo un po' Sono un po' indeciso sinceramente Perché da un lato è stato molto forte Ha segnato in partite molto importanti Invece in altre partite è proprio spento Cioè non ha fatto nulla Non lo so Pensiamoci un po' bene Aspetto anche molti consigli Anzi vi chiedo fortemente Consigli anche a voi Su chi e cosa comprare Non penso di fare questo grande mercato Soprattutto ora a gennaio Perché la squadra sta girando benissimo E quindi preferirei non fare nulla Per il momento Comunque ora ci andiamo a analizzare Anche un attimo la squadra E che cosa facciamo? Nulla Perché no a partire scherzi Vi volevo dire I nostri due acquisti Che ho già fatto E ve ne parlerò poi anche Nel video con il Milan Il primo è Steck Portiere molto giovane Di 23 anni Che verrà l'anno prossimo Lo paghiamo 300.000 Cioè lo paghiamo zero Perché il suo contratto Gli scade però Di stipendio 300.000 Però guardate Per la sua giovane età Ha riflessi 15 E spinte di pugno 12 Comunque Mi sembra abbastanza Concentrazione 12 Quindi mi sembra Un buon portiere Soprattutto in prospettiva Guardate qui Dimentare un futuro portiere Della serie A Quindi Niente male E Non so ancora Se sarà il titolare Considerando anche che Valentini Forse non rimarrà Adan Forse sicuramente Non rimarrà Rimarranno Novarino Idir Che tornerà E appunto Steck E l'altro Diciamo Acquisto E questo Smith Diciamo che Non è che mi ha impressionato Tanto per le caratteristiche Più che altro Per il valore Vale un milione Per il momento Nessun giocatore Sì Qualche d'uno Nostro Vale più di un milione Però Ha 22 anni Ha un ottimo rapporto Guardate qui Un futuro terzino Della serie A Addirittura Ci abbiamo messo La clausola Di rescissione A 7 milioni Lo paghiamo 275 mila Di stipendio Quindi Mi sembra Un ottimo terzino Da Buoni doti 13 di contrasti 12 di cross 11 di marcatura Abbastanza veloce Può giocare Su entrambe le faci Quindi secondo me Soprattutto per la sua Giovane età È un ottimo Acquisto Sta facendo una Discreta stagione Anzi Vediamoci Ha giocato 18 partite Ha fatto un gol E due assist Alla media Del 6.66 Certo 666 Vabbè Lasciamo perdere Queste cose Spartevi scherzi Non mi sembra Malaccio Addirittura Per la sua Giovane età Aver giocato Già 121 partite Non è forse Molto prolifico Però Sicuramente Potrà fare meglio Nella nostra squadra Soprattutto poi Preso a parametro Zero Detto questo Non voglio parlare Di futuri acquisti Perché sinceramente Non so nemmeno Io bene Anzi vi chiedo A voi consigli Su chi Comprare Anche per l'anno Prossimo Appunto Sia Smith Che Stack Saranno due giocatori Per l'anno Prossimo Anche perché Adan se ne va Vabbè I portieri Già L'abbiamo visti In difesa Siamo Spero di non star Soffiando troppo Sul microfono Comunque Siamo con Madonna Ceccarelli Borghese Credo Tre titolarissimi Ceccarelli pure Ha fatto Ottime partite Ultimamente Soprattutto Sta giocando Molto bene In base anche A come l'avevo trattato All'inizio Appena arrivato Subito L'avevo mandato Cioè lo volevo Mandare via Invece Sta Giocando bene A Shong Davvero Un mostro Cioè Purtroppo È solo in prestito Io non so Se comprarlo Se la squadra Ci darà Il nuovo budget E quindi Ci darà La possibilità Di comprarlo Ma ragazzi Nonostante Le statistiche Non molto alte Vedete qui Che prestazioni Cioè davvero È formidabile Davvero Molto molto forte Questo lascio Vabbè A centrocampo Secondo me Siamo molto coperti Abbiamo Bovo San Marco Poi ci abbiamo Pannewitz Ci abbiamo Sapara Quindi secondo me Più o meno Siamo abbastanza coperti Anche in difesa Ci abbiamo Poi Lisuzzo Sì Semmai ce ne serve Uno o due In difesa Però secondo me Sono cose Che dovremmo vedere Più a gennaio Che adesso Perché Credo che avremo Più tempo E prendere ora Troppi giocatori Forse non so Se ci è molto utile Anche Magnusson Se ne andrà via Insomma Sì Ci dobbiamo coprirci molto Cioè Balnazeddu Che credo che ovviamente Cercheremo di prendere Alle buste Sì Voglio dire anche Riserve Riserve però Ecco Questo Già mi ero dimenticato Di dirvi Che ovviamente Ci saranno Molti giocatori Che ritornano Dal prestito Quindi Questo Pietro Iemmello Che non mi sembra Affatto male Soprattutto Per la sua Giovanetà Addirittura In copertata Spezia e Provercelli E in prestito Al Novara Quindi Dovremmo provare A prenderlo Alla Provercelli Se no Sì ragazzi Vedremo altro Poi abbiamo Questo Lollo Che mi sembra Molto molto forte Un buon Centrocampista Quindi Pure lì Poi c'abbiamo Il Giovinchino Ma non è il Giovinco Della Juventus Pure lui Mi sembra Guardate qui Le qualità tecniche L'abbastanza veloce Quindi Secondo me Un ottimo Giocatore D'attacco Ecco Per Le altre quarti Poi c'abbiamo Il mitico Balla Difensore centrale Ecco Molti giocatori Mi ero proprio dimenticato Poi c'abbiamo Giver In preso Quindi comunque Giocatori ci sono Non voglio Parlare tanto altro Giocatori ci sono Quindi Secondo me Se non ci arrivano Grandissime offerte Starei così Sia per quest'anno Poi l'anno prossimo Avremo Cioè Ci faremo una lista Di giocatori Da comprare Comunque Aspetto Anche già adesso Consigli Anche per l'anno prossimo Anche per i parametro zero Anche perché Soprattutto Ripeto Andandosene a questi Giocatori in prestiti Ritornando parecchi Giocatori dai prestiti Vedremo Visioneremo Tutti questi E decideremo poi Che cosa fare Del nostro spezia Sperando di arrivare In serie A E quindi Cercare Almeno il primo anno Di puntare alla salvezza Per poi Puntare anche Di più Nei prossimi anni E quindi ci serve Una rosa Adatta Al nostro scopo Quindi detto questo Sto parlando a bassa voce Perché ho fatto un po' di video oggi E ci sono quasi senza voce Detto questo Spero che questo video Di riepilogo Calciomercato Vi sia piaciuto Mi raccomando Non vi perdete La prossima Puntata Che è un Puntatone Con la partita Col Milan E Vi invito come sempre A condividere il video A iscrivervi Se non siete iscritti A mettere un bel like A commentare E niente più Un saluto Da Football Manager Italia Da Mike94 Ciao ragazzi